A Federica! Ciao Federica. Buongiorno, e che ci fate qua? Niente, vorremmo mangiare, ma sembra che sia complicato. Posso servire io i signori? Prego, seguimi. Che ti frega di mangiare? Non fai un cazzato, ma perché? Siamo da l'altezza. Sgranocchiamo qualcosa? Sì, subito. Ma che ci fate qui? Io proprio non vi ci facevo. In che senso? No, infatti siamo venuti per... L'anniversario? Per il vostro anniversario? E quanti anni fate? 25. 25? Grosso modo. Ma complimenti. Voi conoscete la filosofia di questo ristorante, vero? Cioè, Marco ve l'avrà già detto un sacco di volte. Non parla d'altro. E tu invece? Eh? Io cosa? Da quant'è che non lo senti? Ah, da ieri sera. Perché? Eh no, perché io ho provato a cercarlo al telefono, ma non mi risponde. Beh, ma sarà da Nicola. Ah. Scusate un attimo. Sì. Sì, guarda. Hai visto? Sarà da Nicola. Comunque secondo me lei non sa niente. Lo dico Federica di Marco del film, non sa niente. Quando gliel'hai chiesto? Non gliel'ho chiesto, si capisce, no? No. Fausto? Da quanti anni è che siamo sposati? Io e te? No, io il cameriere. Venti... Non lo sai? Non lo sai. Come fai a non ricordartelo però, eh? Luciccio, ho i cazzi miei al lavoro io. Ah sì? È perché io no? Io non ce l'ho i cazzi miei al lavoro. E questo è per festeggiare. Eccoci qua. I nostri cyber eggs. I cyber eggs. È un sacco che non li mangio. È uno shottino di vodka. E i bisturi. Certo, senza bisturi. Eh, non si può. E come va la recita? Bene, bene. Siamo un po' indietro, ma... Eh, ma è domani, no? Eh sì, domani se ne fatti siamo indietrissimo. Eh, potrei venire a darti una mano? Oh, volentieri. Volentieri, certo. Ma sai dov'è la scuola? Ah sì, certo. Sì, torno subito con i menù. Oh, ma questa sa tutti i cazzi nostri. Fausto, dai, mangia sto ciberino, la. Eh, non lo so, sei tu che hai voluto fermarti a pranzo, eh? Sembra che mi guarda. Che mi guardi, congiuntivo. Vai. Sì, non fa la professoressa, no? Ma vogliamo mettere i congiuntivi quando è ora? Il colloquiale.